Valentina Diuf, 5-7 con la Cina, più la felicità per aver fatto una bella partita o il dispiacere per non aver vinto? Sicuramente su certe azioni potevamo fare molto di più, perché comunque ce la stavamo giocando punto a punto e avevamo comunque la stessa possibilità che avevano loro di vincere. Non abbiamo saputo sfruttare certe cose, quindi un po' amareggiata, però comunque sì abbiamo fatto una bella gara rispetto a ieri. Dopo Giappone, Cina, il Brasile, il massimo. Sì, diciamo che Pupani è una partita di alto livello come lo è tutti i giorni. Loro sicuramente sono nettamente più favoriti di le squadre che abbiamo incontrato, anzi secondo me hanno un gioco completamente diverso. Sarà difficile, però comunque sì, noi andiamo in campo come ogni partita con la grenda per fare il meglio.